che ha forte, tiene Scanferla e ancora Simon fermato da un grande muro di Galassi variazione forte su De Smith, falla sui 3 metri, va in zona 4 da Takashi in diagonale, gli chiude la strada il numero 11 Gianluca Galassi, il centrale campione del mondo Ian Zimmerman ancora forte su Takashi Pipe di Gardini che non passa perché c'è il muro di Gianluca Galassi Galassi palla dietro il bruno per la goncia, il muro di Galassi, 20 pari il tocco di Van Gardin che ora ha nuova opportunità ma subisce il muro a 3 Poi Flavio a palleggiare per Riklinski, l'entusiasmo in casa Monza, 12 a 8 Su del cieco, Takayamuro di Gianluca Galassi che era la laterale Small Morato da Galassi Intanto va a forzare su Mozic che tiene spirito dietro per Keita Il murone del miglior centrale del mondiale Gianluca Galassi Volpato, no, state crozato, questa volta si fa a lui murare da Galassi Apertura di Bruno per la comcia Morato, da Galassi non si passa più